Ieri Barbara D'Urso a pomeriggio 5 è ritornata sul caso di Luigi Favoloso. Il settimanale chi lo avrebbe scovato in Svizzera? Sembra molto dimagrito, ha commentato Barbara D'Urso in studio tra lo stupore degli ospiti. I scatti sono stati fatti a Locarno. Il ragazzo campano è stato fotografato davanti a un caffè, indossa un piumino e una filpa con cappuccio. Poi va via su un'auto con targa a Svizzera. Il tutto immortalato è finito sulle pagine di chi in edicola. Cosa ne pensate su questo caso? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.